È drammatico il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'alba di domenica sulla statale 18 Tirrenia Inferiore. A perdere la vita tre persone, i coniugi Agnello Rozza e Vergilia Iovino di 67 e 65 anni e l'anziana madre di lei Santina De Riggi, originari di Camposano in provincia di Napoli ma in questi giorni in vacanza ad Agropoli nella loro casa al mare. La 92enne si era sentita male nella notte ed era stata portata dalla coppia verso l'ospedale di Agropoli ma viste le condizioni abbastanza preoccupanti i sanitari del nosocomio avevano consigliato il trasferimento a Battipaglia. Senza aspettare l'ambulanza i tre si sono rimessi in auto diretti al Santa Maria della Speranza, una corsa contro il tempo finita però in tragedia. Secondo una prima ricostruzione l'Audi A4 con al volante il 67enne militare in pensione all'altezza di una rotatoria Cioffi, frazione rurale di Eboli, ha sfondato il guardrail e scavalcato il muretto finendo nel piazzale adiacente l'intersezione stradale dopo essersi ribaltata più volte. Inutili i soccorsi arrivati sul posto, i tre sono morti sul colpo. Le forze dell'ordine stanno ancora cercando di capire le cause che hanno portato al tragico incidente. Potrebbe essere stata una distrazione o l'elevata velocità considerata l'ansia per la salute della suocera a condizionare la guida del 67enne oppure quella rotatoria pericolosa che già in passato si è resa protagonista di altri incidenti mortali. Intanto le salme delle vittime sono state sequestrate negli obitori di Battipaglia e Eboli in attesa dell'esame autoptico. Come nelle mani dell'autorità giudiziaria è finita l'Audi A4 che nei prossimi giorni potrebbe essere sottoposta a ulteriori accertamenti per appurare le cause di questa tragedia.